Cari follower, buongiorno, spero stiate bene. Oggi vorrei parlarvi di gentilezza e questa gentilezza come argomento mi porterà ad una considerazione che ho pensato per le mie clienti, per le followers, per le persone che si fidano dei miei consigli e dei miei prodotti. Tutti in questo momento parlano ovviamente del calendario dell'avvento e già ci prepariamo a quello che sarà il periodo di Natale. Nel daily io mi rendo conto che quello che sta mancando è veramente la gentilezza, che è qualcosa che io ho sempre coltivato nel mio lavoro con le persone che mi conoscono, cioè portare un po' di luce non solo con il proprio lavoro o con prodotti di qualità come nel mio caso essendo anche titolare di Vormakeup, ma proprio la nostra energia. Lo scambio energetico in questo momento è veramente molto basso, penso che siete d'accordo con me. E allora, avendo anch'io un brand, ho pensato ad un regalo per il periodo di Natale che potesse unire in sé per sé il concetto del regalo, ma che potesse andare anche un pochino oltre. Allora, innanzitutto io ho da offrirvi questo regalo. Questo regalo qui è la Christmas Beauty Box di Vormakeup. Cosa ho pensato per le mie clienti? 13 prodotti selezionati tra i più iconici di Vormakeup, ma non è quella la novità. Quello diciamo che è qualcosa più o meno che potete ritrovare in molti brand, potete andare nei grandi drugstore o per le prime 25, perché sono solo 25 che si potranno preordinare ad un prezzo speciale, ma non solo nel prezzo speciale, ma nell'opportunità dopo l'acquisto o il regalo che qualcuno farà a qualcun altro, di poter avere una consulenza personalizzata con me. Una digital lesson di 50 minuti che è in omaggio. E anche il prezzo di questa Christmas Beauty Box è un'offerta eccezionale, ma ripeto, sono solo 25, quindi le più veloci. Quelle che veramente sono convinte che lo scambio di energia possa fare la differenza. Quindi il risultato quale vuole essere? Ok, mi arrivano i prodotti, ma rispetto a qualsiasi altro brand ho la possibilità e ho l'opportunità di parlare con Valerio Orlando. 25 anni di esperienza nel mio lavoro fanno la differenza e fanno la differenza anche nel modo di riconoscere i vostri colori, che voi sapete non è l'armocromia classica di cui si sente sempre parlare. Quindi una volta che voi stesse entrando sul sito Vormakeup, entrando nello shop, andate a selezionare quelli che sono i prodotti, i 13 prodotti che comporranno la vostra Secret Box, ricordatevi che avete anche 50 minuti, che corrispondono comunque a 100 euro, di consulenza gratuita con me. E adesso passiamo a vedere che cosa c'è all'interno della Secret Beauty Box.